benvenuti in un nuovo video commento con le finali del conclave oggi commentiamo la finale dello store championship di torino che si è giocato il 29 gennaio scorso oggi abbiamo con me il ritorno qua di simone ciao ragazzi eccolo qua per tutti i suoi fan pieno di fan allora i due protagonisti della finale sono andrei potop che gioca sulla vostra sinistra e ha un bellissimo mazzo barateon banner of the wolf mai visto ma si è un mazzo un po atipico durante il torneo ma ha fatto bene e il suo avversario invece sulla destra quindi è luca martinelli che gioca un rannister banner of the dragon questo è già più visto comunque due mazzi che tutto sommato in realtà sono abbastanza delle novità per una finale diciamo per le finali che stiamo vedendo ultimamente cioè smentiscono il fatto che noi in italia giochiamo più che altro fedeltà si è che non giochiamo mai banner quindi va bene comunque sta diventando più giocati sicuramente i banner ma da questa parte un po' ce l'aspettavamo in prospettiva ma mano che escono più carte e le combinazioni risultano più efficienti eravamo presenti a tu eravate presenti a questo torneo sì ero sono andato con una delegazione di Milano si siamo trovati molto bene era un po' che noi andavamo penso in Piemonte a giocare ci fa sempre piacere quindi allora vediamo un po' il setup dunque allora andrei gioca oro l'armata il caspita sono lorda lorda dei bruti sì e una sansa e invece dall'altra parte abbiamo un oro gemi rannister e scontino targaryen comunque due belle partenze direi per tutti e due hai una previsione su questo torneo tu lo sai naturalmente perché eri presente certo io so come andate a finire possiamo intuire qualcosa beh allora diciamo che sicuramente il rannister avendo dentro il pacchetto targaryen che noi ci immaginiamo ovviamente è la soluzione ha la soluzione diciamo o comunque è stato birdato per trovare una soluzione contro il tappaggio barateon tipicamente però vedrete che il mazzo di andrei è molto molto particolare adesso lo vedremo meglio comunque partono allora il dobbiamo di varis e calma sul contento occidentale non sappiamo cosa hanno ridotto non sappiamo cosa hanno ridotto sì ovviamente come come adesso noi ve lo ricordiamo quando facciamo il commento non sentiamo l'audio e della partita e non torniamo indietro non fermiamo quindi è tutto in diretta quindi a volte non vediamo delle cose o perché ci potrebbero venire d'aiuto i token icona che abbiamo sponsorizzato lungo l'altro sì esatto comunque non è non è facilissimo a volte seguire bene le partite quindi sappiamo va bene allora parte il giocatore lannister sì che quindi giustamente essendo riumbrato hanno deciso di far partire l'altro giocatore e qua scende intanto un aggo che comunque si può rialzare perché è rivelata una trama estate sfruttando la ocean road che ricordiamo che sconta le carte di uno non incasata quindi ore neutrali esattamente e anche una bella bodyguard su su gemirani non che ci aspettiamo proprio un varia da parte di un mazzo barate non stack però ci potrebbe anche stanno è comunque tipico quindi che fai adesso vediamo andrei cosa ci gioca intanto sta ordinando là in fondo vedete dei pasticcini passare perché dovete sapere che c'era i pasticceri a Torino ovviamente rinomata per la pasticceria abbiamo mangiato questi pasticcini buonissimi c'è un giocatore a Torino che mi sa che fa il pasticcere era lì presente sì lì presente c'era un po' lui e forse anche qualche altro collaboratore comunque ho mangiato proprio benissimo i pasticcini molto bene max no io ho apprezzato molto allora ocean road anche dall'altra parte qui adesso vediamo andrei ci sta pensando un attimo certo che l'armata dei brutti con le ocean road sta schizzando le stelle si diciamo questo 4 per avere 7 di forza su militare e potere si stiamo vedendo giocata in diversi mazzi soprattutto nei banner comunque un'ottima soluzione proprio anche perché comunque puoi giocare ocean road se pensi di poter rimettere una buona soluzione vediamo ci sta ancora pensando vediamo se scende qualcosa di barate eh invece qua sono le city watch sì 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 city watch che gioca senza ambushare ovviamente molto interessante poi scende uno scontino stalker che comunque fa e passiamo alle sfide vedo che fanno militare con jamie sì adesso luca fa militare con jamie andrei la para forse a vincere penso a questo punto però devi allora inginocchiare la carta a casa infatti lo fa ecco inginocchiare l'agenda ma noi siccome non siamo orcar gliela facciamo passare ma sì ma sì ok dovrebbe pillaggiare si è pillaggiato si è pillaggiato non ho visto bene cosa no no è interessante gli ha portato via un iririo di pillaggi che comunque contro un barate un uno onestamente insomma poi ripeto vedrete che questo barate secondo me si rivelerà un po' atipico ok allora intanto fa un intrigo evidentemente con con ago e la dano oppo lui lo rialza direttamente dano oppo eh toglie il trono toglie il trono vabbè spoiler un attimo dai tanto comunque no no non spoileriamo niente sul mazzo no però secondo me è interessante era un mazzo questo barate Stark è un mazzo che punta molto su fare dominance e difendere la potere non punta molto sulle combinazioni ti tappo ti controllo così punta proprio a tenere la potere e fare dominance quindi questo questo trono non è una carta in più diciamo che è una carta comunque buona per il suo mazzo supporto del popolo infatti adesso vedete che parte un supporto del popolo comunque interessante e infatti viene counterato da 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 un caso visto bene quello era un counter infatti non non attiva ho capito si vede che fiutando un meta pieno di nightwatch ha detto facciamo anche noi punti in un modo abbastanza facile eh sì ha puntato questo mazzo un po' così diciamo che punta non è così passivo come un nightwatch perché comunque le sue sfide le fa ha dentro anche personaggi che chiamano potere ovviamente però ecco e in pingardo gioca sulla dinamica eh potere barra dominance del baratone più che sulla dinamica che vediamo più spesso del del tringinocchio quindi vedrete tante cat in realtà stark beh posso immaginare che prima o poi allora arriverà magari il tavolo dipinto e giù sì sicuramente gioca solo anche su quelle cat io non l'ho incontrato in realtà non ho incontrato nessuno di due questi giocatori quindi adesso ovviamente vi dico un attimo ho sentito gli altri giocatori che ci hanno giocato mi hanno raccontato un po' quindi non lo conosco così bene mazzo qui è anche un po' una scoperta per me però so che più o meno è quella l'idea sta beh comunque un inizio non particolarmente significativo per entrambi visto che è uscito a cancellarli la strategia delle location gli ha tolto trono e gli ha cancellato il supporto del popolo che altrimenti avrebbero fatto secondo me dei danni incredibili certo però tenete conto che andrei comunque in un turno passivo a già tre punti certo che è un po' quindi emblematico di come potrà essere disputata questa finale sì perché comunque ricordiamo che un punto l'ha chiamato anche grazie a quella quella salsa sì era magari un po' snobbata perché il costo le prime neve dell'inverno però in un banner secondo me fa sempre tanto e poi su prime neve dell'inverno magari è un po' meno giocata cosa si che sia un buon ritorno vediamo ok allora vediamo un po' se abbiamo hanno scelto la trama nuova siamo al secondo turno ma senti invece per quanto riguarda un torneo hai qualche considerazione in particolare riguardo dei mazzi che hai trovato c'era una buona varietà presenza più o meno allora sì c'era molta varietà c'erano sia mazzi che ci aspettavamo tipo Rannister Jumper Nightwatch difensivi io avevo portato un Nightwatch invece inverno Choke che mi piaceva molto un po' sperimentare ma non ero sicurissimo no non ero buono a giocarlo io perché l'ho giocato proprio pochissimo e l'ho portato un po' all'asperindio e ho avuto la sfortuna di trovare conto due mazzi che giocavano l'estate e quindi è stato un po' la prima partita invece l'ho giocato con con Salvito che è il ragazzo che vedete qui in fondo che giocava anche lui un Targaryen inverno e ti assicuro che giocare inverno su inverno con due agende che riducono la mano entrambi e quando poi giochi anche spettri cioè diventa veramente un gioco molto interessante un gioco tremendo veramente è pariosissimo nobile causa e nobile causa quindi ci aspettiamo un turno di smuccaggio violento eh sì adesso scenderanno qualche manzo di casata vediamo quale qui adesso penso che scelga non lo so chi ha vinto l'iniziativa perché non c'è niente no ci sono i punti ha più punti Andrei quindi sì dovrebbe aver scelto Luca vediamo penso che abbia fatto andare Andrei esatto farei andare anche io infatti ha già contato i punti vediamo un po' cosa ci mette giù ok allora no sta pensando c'è ancora comunque vorrei dire che il balazzo non si è mai stato un momento buono per essere giocato adesso secondo me con questa dominanza di Nightwatch un po' di Greyjoy col Valar fanno il loro effetto assolutamente intanto mette giù un Arya Stark scontandola di due anzi qui no ha scontato di uno solo perché poi c'è lo sconto della cosa poi tavolo dipinto tavolo dipinto bene quindi già comincia in teoria a fare assolutamente punti lesti solo che non capisco come l'ha scontato con la non dovrebbe l'ho scontato con la Ocean Road sta forse sì sta adesso ricontando no ha sbagliato quello non lo può scontare infatti adesso forse glielo fanno notare perché c'era già lo sconto di due su Arya e quindi niente infatti gli fanno notare che non poteva tenersi in piedi diciamo lo scontino di casata e usare Ocean Road a questo punto e avere un personaggio in più in piedi se tanto non deve giocare infatti infatti vabbè torna indietro e rifà gli sconti in questo modo qua che ha molto più senso ovviamente sì anche perché non so esattamente quanto voglia giocare bisogna di un reset board esatto infatti infatti se vedete si sta tenendo comunque quattro ori che comunque li possono fare per la City Watch ricordiamo li possono fare anche per eventi a questo punto però mi chiedo se Nobile Causa solo per Arya forse un po' sprecata anche io mi aspettavo qualche cosa di più grosso non so se non sarei sentita perché magari attemeva un reset però a questo punto ripeto non lo so un po' sprecata sì siamo un po' sprecati però poi vediamo magari ha cose in mano magari gioca solo trame di economia o comunque trame prevalentemente di economia un mazzo adesso dopo lo scopriamo man mano che giocano perché la partita è durata un po' quindi avremo tempo di vedere un po' i trame non spoileriamo adesso comunque tocca a Luca vediamo lui anche lui comunque forse Andrea ci sta ancora pensando perché Luca non ha ancora contato gli oli adesso qua non sentiamo però vediamo no Luca ha contato gli oli ce li ha in mano ecco lì vediamo vediamo cosa decidi di mettere giù quale delle bestie orrende Lannister deve scendere una io me lo aspetto almeno da lui tra bestie interessanti è anche un Tywin per esempio intanto c'è uno sconto ok sconta sconta ok da che scende il bestione 3 4 5 6 però scontando gli 6 no scontato non ha pagato troppo ragazzi c'è anche lo sconto di 2 3 quanti ori ha usato perché infatti non capisco ha già scontato con location di 3 non infatti questa questa è la nobile causa vanilla cioè 5 ori infatti è stranissimo non non capisco vabbè forse sarei dimenticato però strano io abbiamo fatto scusami perché ha 3 ori ancora eh non dovrebbe ne aveva 6 eh no ha scontato di 1 ha scontato di 1 Russell 6 ha pagato 3 ori dimenticandosi dello sconto di 2 della nobile causa andrei intanto vabbè inizia un resfina andrei fa una velocemente un intrigo con la Sersi che viene parato con Sansa con Sansa e con Sansa che viene parato d'Argo adesso è una militare stert si uccide lo scontino Targaryen giustamente quindi prende la nobile andrei a questo punto un po' deve ha 4 ori quindi la dominance tutto sommato beh io comunque una potera ecco una potera forza 1 me lo aspetto perché tanto da l'altra parte c'è soltanto Sersi se vuoi difendere e quindi ci sta ha conservato 3 ori e non ha modo di aumentare quindi Mastino non lo vedremo ha conservato 3 ori che ricordiamo dovrebbero essere 5 molti di più indubbiamente eh se vuole usare Sersi ma secondo me gliela lascia gliela lascia nobile infatti vedete che gliela lascia nobile così almeno fare sfide lui diciamo sta decollando Andrea questo giro comunque Argon intanto non si non si stappa però lui con già così con Sersi e e Gemi tre sfide volendo le fa certo da l'altra parte c'è comunque quella armata che non passa e le City Watch che sono enormi anche loro infatti mi sa che il militare potere non passa però vediamo se c'è un intrigo da convertire magari con Crane 2 per diventare interessante io ricevo per farlo sto cominciando a dimenticarmi di trial by combat no invece no gli fa una comunque guardate che ecco vedete lì gli ha tolto Nightmare City Watch Nightmare City Watch eh sì City Watch non erano male non erano male però non li ha buttate dentro nella sfida perché comunque le voleva tenere in mano aspettandosi aspettandosi i resettoni sì 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 ah questo è interessantissimo allora dà più due a Jamie perché dalla tappata aveva parato con la Lorda dandogli più due per vincere in difesa andando 7 a 7 vince Luca interessante questa giocata però la potere a questo punto non la può fare c'è la Dominance sembra di Andrei sì sicuramente City Watch 4 ori e ruba un punto di tavolo dipinto ecco sta veramente tenendo per i cojones è un punto di Dominance è più Sansa tre punti ha fatto praticamente after sfide parliamone parliamone cominciano già ad essere un po' di punti che cominciano a decollare sì 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 queste meccaniche comunque che fanno chiamare i punti fuori dalle sfide ultimamente ne stiamo vedendo tante in tanti mazzi diversi secondo me questo mazzo di Andrei non è nemmeno uno dei peggiori in questo verso cioè i peggiori penso che siano quelli che abusano delle trame per chiamare punti però confisca e prima neve dell'inverno eh questa prima neve può fare male ad Andrei vediamo un attimo confisca giustamente sulla Widow's Way li lascia li lascia a bodyguard che ci può stare perché comunque così almeno risolve il problema dell'armata l'armata difende la militare bene adesso sì non so chi parte oddio non la difende così bene nel senso che se si impegna allora qui come al solito non sappiamo chi parte l'iniziativa è 5-5 i punti erano di in favore di Andrei e quindi Luca può scegliere io fossi Luca come al solito quando giro prima neve vado per primo per sfruttare il fatto che ti metto pressione sulla militare indubbiamente dall'altra parte è vero che ci sono tanti personaggi però personaggi che possono dire a loro Citywatch e Orda prima raggiù anche i manager Aria con comunque uno stat in potere che non è male domanda hai mai visto un'alternativa a quell'Aria mi spiego meglio hai mai visto in gioco l'Aria della Derax mai 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 visto nessuno che giocava con l'Aria della Derax io vorrei tanto sapere se c'è un eroe che l'ha mai provata ha arrivato la possibilità io no io no ok ma comunque sconta intanto una allora The Ocean Roast sconta la Kingsroad tappa Kingsroad che immagino si spacchi anche quindi certo e poi tappa un'altra carta e scende Tywin un mega manzo quella Kingsroad deve andare via ok adesso va via bene diciamo che i manzi sono arrivati più non riesco a capire mai quanti ori conserva ne conserva uno uno noi sono abituati a metterli sulla trama sì vabbè allora Andrei Andrei gioca adesso mi rifaccio la mano si chiama così va bene e gioca anche una bodyguard su giustamente su l'unico personaggio su cui la puoi giocare che rimane giù in gioco nel senso su Aria beh sì almeno li tiene anche l'icona militare piuttosto di no non è una copia o bodyguard ah c'è ragione non è una copia però diciamo che ci assorbe volentieri la militare sì esatto cioè nel senso che se adesso vuol far entrare la militare però a quel punto perché non lasciare in gioco dimmi dimmi Sansa così almeno non può perché la bodyguard salva dallo scartare e dalle essere uccisi non da tornare in mano questa è l'ultima volta che commenterò non ti preoccupare giovane padawan ma sono domande che faccio così poi dopo poi correggere tu le sai le fai apposta perché sono le domande che tu pensi che da casa la gente si sta facendo in questo momento quanti caffè ho già preso va bene andiamo avanti allora vediamo un attimo adesso sono le sfide di Luca che comunque può mettere una sana pressione io spero che un po' recuperi quei poteri perché adesso con questa prima dell'inverno sicuramente un po' i danni li fa io fossi in Luca comunque vorrei vincere la potere perché adesso gli togli due carte e se non lo faccio pescare sono contento però per vincere la potere non è così facile anzi ecco adesso penso che non sia più possibile perché solo Tywin non basta no Tywin è a forza 7 se vuole comunque lui anche solo con la City Watch e la era come si chiama la la Red Keep è a forza 8 certo una Widow's Wear è andata quindi a meno che non abbia la seconda però anche la seconda diciamo che giustamente le carte che li toglie di Cersei poi dopo lui si riesce a ripescare con potere questo vabbè se non ha potere ah beh lui per essere sicuro va di armata che può pompare ma fa bene non basta non treccevi ma non basta perché è 7 guarda 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 Luca guarda che vedete Luca che sta smadonnando si è visto nel rabbiare lui ha pompato che non serviva perché tanto c'era cosa per indurgli a tirare quel treccevi a caso tra l'altro andrei ti rispetto tantissimo sei un giocatore pro questa giocata qua serve veramente per ingannare il tuo versare hai il pollice alzato del conclave direttamente bravissimo gli hai fatto andare via una carta per niente una carta che poi non è proprio inutile no più pillage giustamente più pillage adesso vediamo no mi sa che se lo sono dimenticati brevamente mi sta bene così vabbè fa niente non serviva adesso comunque guardate che gli mancano sei punti e infatti qua penso che non faccia neanche l'intrigo Luca per stare un po' in difesa beh sta pensando alla dominance andrei a 8 più 2 10 contro no dominance non no no ora si no però adesso adesso io però la potere con adesso non lo so la potere con con aria la farei sono due punti sicuri e poi a 6-7-8 in dominance contro 9 però se sta così scusami se sta così fa 6-7-8 9-10 sta contento di dominare e pescare in realtà è uguale no 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 comunque fa i punti anche in dominance fa gli stessi punti in realtà ragazzi scusatemi fa gli stessi punti fa gli stessi punti ma non ne da uno a Luca in questo modo qua è giusto è giusta la soluzione di Andrei dare un punto comunque a Luca secondo me non era così male perché ne ha pochissimi sulla carta a casa e se vuoi continuare a rubagli a un certo punto gli devi far fare in qualche modo e siccome in qualche modo gli devi dare 6 punti quindi vabbè non so quanto potrà difendere Intrigo no Intrigo ovviamente non lo difende più però sì sì comunque è vero che un punto dell'altra parte entra sempre alto fuoco e marcia è alto fuoco e marcia interessante adesso ci aspettiamo ovviamente che la nostra vada prima Luca sì vada prima Luca lui penso che mi metterà pressione vediamo cosa si scatta anche Luca comunque si è dovuto scattare un manzo discreto dall'altra parte va via cioè vedete tipo è andato via un aggo per una sì non so quanto ne si ha valsa la pena non lo so nemmeno io però vabbè ok l'ha tenuto più corto comunque tre personaggi a due diciamo insomma è più corto quello è vero adesso sono curioso di vedere soprattutto alla luce del fatto che so che sarà una finale combattuta quanto impatto farà Tywin da adesso in poi eh Tywin diciamo che comunque ecco togliendogli lo stealth ha fatto sì allora diciamo che togliere lo stealth in potere è un po' uno stealth a forza 4 con la rare keep sì ok sì in effetti no più che altro uno stealth che ti aggira Tywin certo certo che Tywin è il problema da passare se si tiene gli oli comunque intanto scende un little finger che lo fa pescare e aggiunge comunque ancora più potere dalla sua parte mette giù un claim di militare claim soak diciamo però adesso adesso il problema è che Andrea deve riuscire a mettere giù un po' di roba perché altrimenti diventa impegnativo ha pescato due di red keep il turno prima era rimasto corto però poi ha pescato di red keep vediamo cosa ha pescato entrambi hanno giocato probabilmente il loro reset board non me ne aspetto altri quindi da adesso in poi la partita dovrebbe essere di pura matematica sul passare e Luca è avanti su questo però data parte ad Andrea gli mancano quattro punti al tavolo e Luca deve sempre stare attento a possibilmente non farlo pescare in potere cioè vincere in loro potere e non farlo dominare che inizia a diventare complicato il tavolo dipinto ragazzi è una carta veramente adesso potrebbe fargli veramente una claim 2 di intrigo convertita in militare secondo me potrebbe ce l'aspettiamo potrebbe fargli tanto non so se rigioca eh Luca adesso vediamo va detto anche che non ha pescato molto no ragazzi va bene è tornata la mossa la mossa vabbè forte comunque rigiochi a una altra copia di notate ragazzi che non avete praticamente visto nessun personaggio Baratheon tranne Terry e City Watch attenzione maestro Pilos eh quello si sembrava proprio maestro Pilos tanto per dare una mano sulla dominos non ho idea nemmeno che esistesse un bel milk su Tywin che lo spompiamo un attimo gli togliamo gli oli in prospettiva Termini mi raccomando diciamo che non l'ha 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 messo su Cersei che comunque non so se Andrei conosceva bene il mazzo di di Luca poteva anche sapere che non giocava 3 by combat o no non che io lo sappia non sono sicuro che Luca non lo giochi però diciamo che se lo sapeva è una mossa meno azzardata se non lo sapeva subire adesso una militare crane 2 maestro Pilos copia di di aria anche perché più una crane comunque no crane di militare forse no se vuole difenderla però 7 più 6 13 si no militare non passa no però comunque insomma inizia a diventare un po' pesante poi da tenere il discorso perché poi o chiudi qui c'è a dire che comunque potenzialmente lui 4 punti li può fare andrei adesso sicuramente e quindi adesso deve stare veramente attento Luca cosa che sarà perché sappiamo che la partita non è finita qua vabbè come vedete anche voi data parte della durata del video vabbè dovete fare a schermo intero e non muovere mai il mouse per essere completamente privi di spoiler allora secondo me visto che non sta partendo aggressivo con un intrigo game 2 non ha il trial by combat in mano ovviamente per cui sta ragionando su cosa fare a questo punto è possibile che il trial by combat sia un po' meno appetibile in un banner costa due ori allora io fossi Luca butto lì farei una bella militare con gemi in piedi giusto sondativa diciamo anche perché comunque alla fine o gli togli qualcosa un permanente in gioco oppure vabbè se vuoi difendersi committa uno dei manzi con potere enorme e sicuramente va detto che in questo modo magari riesce un po' più a passare di potere perché per difendere gemi non mi ricordo benissimo Pilos a sterth anche lui a sterth è la mia cosa buona che c'è Pilos cos'altro c'è maestro maestro ho visto che c'è chi gioca il Baratheon con Cressen e Pilos così almeno all'alternativa molto intelligente molto intelligente come soluzione no è vero non è una battuta tra l'altro qui ci aspettavamo cose anche tipo Edric Storm per esempio sicuramente lo giocherà sicuramente andrei che carta bomba anche Edric Storm comunque è interessante secondo me vedere una soluzione di Baratheon molto differente da quelle solite che vediamo beh sai alla fine se conti i metodi che hanno i Baratheon di raccogliere potere hanno solo due personaggi con fama hanno solo Robert e Barristan poi la fama è un po' scarsa hanno la spadina da mettere su Stannis no è vero però c'è nel senso è un Baratheon che non ha cioè non gioca al controllo non vedete il controllo ha rinunciato al controllo ma probabilmente se lo bannerizzi con qualcosa devi necessariamente fare quel genere di non è detto cioè puoi bannerizzare e comunque giocare mantenere Melisandre pacchettore all'oro sì diventa un po' più difficile forse perché 12 spazi devi chiusicare da qualche parte però poteva fare scelte diverse insomma diciamo che comunque è una scelta tipica secondo me che è abbastanza originale questa scelta di Andrea sta pagando come vedete purtroppo di Luca adesso in questo momento non ho visto molto di Targaryen ma giusto scontino però avevamo visto quell'inizio pillaggiato che quindi probabilmente li ha messi dentro per non subire allora vi dico una cosa giocano tanti mi dicevano i ragazzi di Torino che giocano tanto Baratheon a Torino quindi Baratheon classico nel senso quindi comunque probabilmente giocano su meta che sai che dovrai affrontare gente che ti tappa per cui ha deciso probabilmente di bannerare la casata per avere la parte che si stappa della casata infatti abbiamo visto alla fine Agro, Ilirio e gli scontini e vabbè non mi aspetto molto attecati dai Targaryen sinceramente in questo momento ho poco d'offere ci sarà non so Giora no secondo me non gioca neanche Miri gioca probabilmente tipo Giora per tenere i costi più bassi e via poi io ragazzi raccombo comunque Ilirio a dire del fatto di stappare raccombo Ilirio Tyrion è una combo proprio scritta per queste due casate prendo i due ori e ristappo il personaggio o anche solo il personaggio con ster il Tyrion con ster cioè anche solo quello è fortissimo sì Ilirio è una carta effettivamente da madonna e loro hanno gli ori per loro chiamano gli ori in sfide quindi diciamo che è proprio una combo che ci sta insomma nulla di così strano adesso va bene sono in un momento di pausa Luca ci sta pensando bene su che sfide fare ci sta pensando tanto non bene diciamo come abbiamo detto ha molto di cui pensare deve evitare la dominance deve riuscire a passare il potere è vero adesso sta cercando di capire come non cioè secondo me le cose che lui vorrebbe fare è non fargli vincere la dominance e vincere lui una potere il problema è che secondo me tutte e due le cose non sono possibili non sono possibili di fare sta pensando quindi cosa fare ovviamente ripetiamo secondo me non ha un try by combat perché altrimenti l'intrigo con Sersi sarebbe partito prima cosa da fare te leggerisci un po' il board avversario e dopo ci rifletti e dopo vedi un attimo la seconda cosa Stark no il personaggio sul tappetino vedi che stavano scoprendo ecco le Ned vabbè ok basta io confondo perché si assomigliano sono padre e figlio a posto va bene niente Luca questa militare qua devi farla dai Luca questa militare con gemi vanilla facciamola lo costringi comunque a perdere un manzone e ti fai eventualmente un punto di fama se lui non lo fa ragazzi anche voi da casa incoraggiate incoraggiate dite Luca un po' di Luca un po' di mettiamogli un po' di coraggio liquido guarda anche le trame per i turni successivi sapete che tutto sommato sto pensando che potrebbe essere finita questo turno la partita forse se ci pensa forse questo è un momento di svolta e tutto questo è servito per un po' deconcentrare Andrea sfide addirittura l'inception vabbè no io non ho non ho mai conosciuto né Andrei né Luca non so se sono mai passati in altri finali comunque è giusto che si prenda il loro tempo perché magari vogliono portarsi a casa questa vittoria senza esagerare perché ricordiamo che anche la finale non è più due ore no non sono due ore no è tipo un'ora dieci un'ora e venti sicuro sicuro sì 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 due ore non sono sicuramente è un tempo più lungo dei turni normali diciamo degli altri turni è un tempo aumentato per affinare giustamente uno si può prendere anche un attimo di più per fare qualche riflessione diciamo che in questo momento non ho guardato le tempistiche ma siamo a tipo più di cinque minuti di riflessione su che sfide fare ci sono tutti ora è vero che hai tanti conti da fare Luca però nel senso non lo so a un certo punto evidente insomma va bene ecco diciamo che questa cosa è uscita fuori alla fine ok militare con Jamie anche perché non lo inginocchi buona via dai boh ok e adesso cinque minuti Andrea che non la spada la Widow's Whale l'abbiamo vista scartata di confisca quindi potrebbe avvenne una seconda però difficile si accontenta così difende con le City Watch così almeno non ha dovuto attivare la certo la Wydeling con la potenziamento si però avrebbe potuto la ritiene per potenziare sulla potere secondo me così almeno invece la forza 6 gli bastava la Widow's Whale si c'era solo la Widow's Whale è possibile però una è andata quindi ok allora vediamo un attimo stai prendendo in mano uno scontino perché vuoi fare una potere è una potere tipo a forza 1 comunque ci potrebbe stare perché se non la difende con qualcuno esatto no 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 fa una potere enorme a 7 così almeno tanto più deve oppare con 2 perché no con uno solo no in realtà basta l'armata esatto che comunque è una cosa che penso farà perché secondo me comunque vuole vuole pescare però a meno che non è convinto di chiudere in questo turno cosa che però non ce la fa chiudere in questo turno no perché probabilmente non domina e quindi no non ce la farebbe no infatti difende infatti difende a 7 8-9 a meno che non ci sia un Triceri potrebbe essere un altro tradimento che no però si si no 7 contro 7 se c'è se c'è un altro tradimento lo 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 inchiappa ma vediamo vediamo guardate la faccia anche di Andrei che fa bello il brutto il cattivo si stanno guardando no l'avrebbe già tirato non è inutile cioè no l'avrebbe già tirato ovviamente però io ne ho visto almeno uno andato non so se forse addirittura due 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 è vero quindi vabbè poteva avere solo il terzo diciamo improbabile ok manca solo l'intrigo a questo punto non so sta in difesa perché almeno eviti la dominas infatti bravo cioè non rischi niente non ti togli due carte ne è in mano una tra l'altro cosa succede? non lo so sta incattando stava no te lo dico io quella lì è il gesto quando tu cerchi di evocare una colonna di fuoco incantesimo colonna di fuoco sui personaggi per eliminarli ma niente affambolato ok adesso una potere stealth a forza 4 ricordiamo quindi quel simpatico Ritterfinger non basta per vincere e infatti una militare stealth ah una militare stealth perché tanto ha stealth anche con Pilos e quindi giustamente tanto sa che la dominas non la fa e a questo punto fa due sfide a vincere una però gliela hop però comunque il potere glielo ruba e giustamente a questo punto comunque due punti glielo ha fatti e ha 13 poteri diciamo che poteva fare la potere con il doppio stealth per fare la noppo di potere e rubare un punto ma a questo punto ha preferito fare la noppo di militare e giustamente togli un personaggio e ci sta un personaggio sì vabbè diciamo che arrivato di punti potere sono gli stessi gli ha tolto un personaggio a me che va detto una cosa persino lo sconto di casata e quello di Coda Greyjoy per avere due stealth lo vuoi eliminare così magari dopo il suo potere committi gente più ci sta tanto i resettoni non ci sono più lo tiene corto di border ci sta nonostante sia uno scontino però ci sta sai cosa è il bello di queste parole è che io non ho più paese di cosa potrebbero girare adesso Andrei ha pescato di nuovo intanto c'è ha pescato di red keep ovviamente non ha dominato quindi rimane a due punti e adesso però secondo me va in chiusura Luca ha ancora un punto sulla carta a casa l'ha tenuto veramente a corto non lo so vuoi confiscarti il milk da Tywin? sì ti vuoi confiscare il milk da Tywin invece è close call close call vediamo comunque da parte di Andrei praticamente abbiamo visto solo trame di economia e Wildfire chi va per primo? fai andare per primo quello che ha due poteri non ne sono così sicuro però così almeno controlli la dominance io sì però è comunque un gioco molto azzardato sì io fossi Luca fare andare comunque prima Andrei ha anche due stelter ha due stelter infatti è quello il problema che comunque lui deve stare in difesa quindi adesso fai andare ovviamente Andrei fai commentare lui Andrei che mazzo letale hai messo su lasciatelo dire per me è che Andrei ha in mano dovrebbe no forse la scartata non ho visto che sia la scartata però se ha in mano la come si chiama la la Sansa corset non l'ho ci aveva ripreso ha preso sempre un bel mucchietto sì forse gliela ha torta però adesso avrebbe fatto bene come il pane adesso si scende ho una fama vabbè altro milk no ragazzi confisca chiama necessariamente sempre secondo milk o Craven lo sappiamo benissimo lo sappiamo lo sai soprattutto tu è obbligatorio chi di Craven ferisce di Craven ferisce comunque ho incontrato una volta un giocatore che invece di inludermi capito come fai tu che mi metti un milk alla volta me ne ha giocati direttamente due sullo stesso personaggio come per dire è inutile che tiri la confisca invece tu sei così pessimo che ne tiri uno alla volta e mi inludi perché devi entrare nella testa del giocatore certo certo va bene allora vediamo Andrea intanto cosa come investi i suoi oli ne ha tanti a parte il milk secondo me qualcos'altro scenderà se ce l'ha sarà pescato perché comunque ricordiamoci a me dispiace un po' per Luca perché sinceramente non è quasi mai riuscito anzi non è mai riuscito a imbastire nessuna strategia e tra l'altro ragazzi a parte i due milk tutto sommato su Tywin che sicuramente hanno fatto però i suoi manzi in casata li ha visti Luca cioè rispetto ad Andrea che comunque di personaggi con fama grossi in casata non ha visto nulla però è un discorso che facciamo ormai da un po' con i reset board Valar e Itouch le location hanno acquisito un valore inestimabile per cui intanto arriva il terzo start in potere per non farci mancare nulla e un maestrino neutrale un maestro vanilla di quelli sì neutrali quindi nessun personaggio con fama di nuovo super concentrati sulla potere adesso qui se non hai quattro personaggi con potere la partita è finita io però a posto di questa close call mi sarei aspettato un winter festival quasi quale anch'io che non abbiamo visto trame per chiamare esatto strano nemmeno il banchetto dei corvi che vinci in domenze allora winter festival se girava winter festival Andrea che penso non ce l'abbia a questo punto se girava winter festival era vinta automatica cioè praticamente dalla tapate non ha girato estate quindi era vinta automatica sì 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 perché ricordiamo che winter festival ti fa chiamare due punti dalla tapate puoi rubargli ne solo uno ma tu stai tutto in difesa a fare la dominance tratto di dominance gli rubi pure un punto cioè proprio siamo delle pessime persone a sfregio stiamo già vedendo possibilità in più no vabbè avrà senso anche questa immagino no no ma ci sta cioè lui ha fatto un mazzo probabilmente tutto basato sull'economia perché ha bisogno di continuare a mettere in gioco roba non che è un winter festival infatti però ci sta vediamo bron quello bron si ha tantissimi ori non ci aspettiamo che glielo rubi cioè inutile impegnarsi a rubarlo sembrerebbe e milk su davos milk su davos e non su e questo risolve abbastanza comunque lo su aria gli toglie un icona gli toglie vira militare sì non cambia moltissimo però un po' risolve perché gli toglie uno stati in potere che altrimenti era finita già perché non stiamo vedendo il quarto personaggio con potere a bron ha potere a bron è vero esatto sì in difesa potere giusto e niente vediamo comunque partita veramente allucinante allucinante come ti puoi preparare da un mazzo come quello di andrei in un torneo sinceramente è atipico come pochi ricordiamo che adesso comunque andrei vince anche semplicemente non perdendo la potere in difesa e dominando cioè va bene non dico niente non dico niente è una situazione veramente allucinante infatti anche Luca questa cosa la sa sta facendo tutti i conti sulla domina sta facendo tutti i conti possibili se gli conviene mettere giù a tutti tenersi gli oghi insomma non lo so io sarei curioso di sapere adesso però quanto gioco li ha fatto in effetti la red keep perché ha pescato tutti i turni due turni ha pescato quattro carte beh siccome era rimasto con una carta in mano tutti i due turni gli ha fatto penso qualcosa ha messo giù grazie a quella red keep ha tenuto gli oli penso Luca sì forse Andrea ha cercato di rubargli Bronno una volta sì una volta e l'ha ripreso forse si è tolto un oro ed è arrivato anche Tyrion che è quello insteltabile che può darsi che fa c'è Tyrion anche quello pro forse non ci sono più oli se è arrivato Tyrion credo non ci sono più oli in questo momento perché non aveva così tanti dietro va bene beh sì interessante però non so se basta ragazzi vediamo un po' allora io Andrea penso che passerà nemmeno aspetta lo scontinuo di casale no vabbè ecco qua forse addirittura una militare una roba così o una potere a forza cinque no una militare giustamente questo è la soluzione più facile pari con con Jamie adesso penso che passerà penso vediamo mi passo alla Nightwatch eh sì alla fine gioca più o meno così sto mazzo come vedete ha fatto un sacco di punti difendendo dominando e ripeto ragazzi gli ha scattato con intrigo al primo turno no 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 sto parlando di Ruka gli ha scattato il primo turno se vi ricordate trono perché altrimenti tutti questi discorsi su stare lì a fare i conti per dominare cioè era ancora più però gli ha scattato il Liro dall'altra parte che anche quello era un bel rialzino sì era un rialzino interessante ma molto meno interessante del fatto di oppure anche se partiva l'evento il primo turno guardate Luca il primo turno sarebbe un po' cavata scattandogli il trono e counterando il suo patto del popolo altrimenti il mazzo di André partiva come un treno pendolino proprio cioè veramente difficilmente gestibile mi domando quali altri eventi posso giocare tra l'altro perché se ha rinunciato al pacchetto in ginocchiamento allora anche di star forse eventi di difesa tipo Nightmare non lo so sì sì Nightmare l'abbiamo visto negli scarti Nightmare ti abbiamo visto Andrei sostanzialmente gioca Mirk e Nightmare a profusione per stare eh Andrei penso che tu passerai non so se ti vuoi committare per vincere in potere ma se fa intrigo dà anche no intrigo non lo farà mai mai a parte che se c'è un maestrino ah beh va bene sì intrigo per perderla però oddio intrigo anche perché l'altro non te la può dare a Noppo comunque no esatto ragazzi perché comunque se gli ha dato a Noppo è finita il punto è che non vuoi dare ori a un Lannister certo secondo che poi lui può fare intrigo da quel punto con quattro ori può fare di tutto sì no no ma anche secondo me non glielo darà per non fargli mettere tipo Mastino tipo per esempio questo Pilos che vuole fare il potere questo è un Pilos che fa comunque una potere piccola perché sa che anche ah no una potere grossa cioè una potere grossa una potere con due sterth ragazzi potere a forza sostanzialmente sei con due sterth si ricorda però che Bron ha potere eh vediamo secondo me magari si ricorda anche però se sterth ha tipo Bron e e boh e boh non lo so tipo uno vale l'altro questo Tywin a questo punto si deve committare no faglielo committare Tywin sterth ha qualcun altro eh ma Tywin è già sei di suo così deve difendere solo con due personaggi infatti gli ha tolto penso Ritterfinger così no gli ha tolto Ritterfinger allora si vabbè deve comunque inginocchiarne due allora Pilos è tre Aria è due quindi sono cinque più due sette eh devi inginocchiare due personaggi quindi uno cioè due personaggi che vuole però a questo punto immagino inginoccherà Tywin e eh Cersei non so come ne possa uscire Luca non so veramente come ne possa uscire Tywin e Cersei per non eh farlo vincere in potere ma a questo punto Luca non vince in potere e si subisce Dominance e ti rubo uno due punti necessari per chiudere Dominance non domina eh però no ragazzi Andrei non domina non so se domina Andrei eh bisogna fare un po' di conti eh ragazzi perché comunque data parte c'è ancora roba in piedi interessante 5 4 9 non penso che abbia più Oli però l'intrigo non lo farà ok ma forse forse non riesce a dominare non lo so è da fare un po' di conti ragazzi cioè infatti adesso penso che li stiano facendo potrebbe anche solo pagare e perderla tutto sommato se poi riesce a dominare però non fa sfide cioè forse fa solo la potere se ce la fa però anche fare solo la potere in attacco è difficile perché beh una risposta è facile non deve essere un hop non deve essere un hop sicuramente non deve essere un hop sta pensando se difendere e vincere difendere e perderla parliamoci chiaro io tirio non lo terrei tanto più per committergli qualcuno sai cos'è ti dico perché io non la difenderei per vincere perché se tu la difendi e la perdi poi a questo punto Andrea ti fa anche intrigo e tu sei obbligato di nuovo a non dargli la no è vero che hai tipo è vero che hai tipo tanti personaggi con intrigo per fare però a questo punto io lo farei perché è vero che tu prendi due Oli e tutto quello che vuoi però ti devi inginocchiare un personaggio e comunque per la Dominance sono altri pezzi da qua forza 4 forza 5 che se ne vanno sì 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 a questo punto sì no sono anche d'accordo che debba quantomeno vincerla cioè se sì io penso che inginocchi per vincerla sta contando la Dominance ti fa veramente giocare male il tavolo dipinto malissimo ti fa giocare peggio che la barriera perché ti toglie un po' non esageriamo sicuro? sicuro? sì sì no di Dio ti fa giocare male però ok si tiene Tywin in piedi forse vuole inginocchiarsi lo stat perché conta che lo stat non gli serva se conta che lo stat non gli serva vuol dire che sta pensando di non fare sfide lui quindi non farà la potere così dopo gli rimane in Dominance 6 11 15 15 in Dominance contro 5 11 più sì vabbè molto elegante però gesto che ci fa capire che Luca sta vincendo la potere giustificato però dopo tutti questi conti alla Beautiful Mind anch'io sarei un po' esuberante sta contando la Dominance sì sì sta ricontando la Dominance con Tywin Littlefinger e Bron penso che riesca a dominare ma mi domanda se adesso Andrei fa no niente basta non fa niente basta e andiamo avanti ancora un altro turno quindi questi due punti non siamo riusciti a farli diciamo che la strategia di Luca a questo turno ha pagato sai cosa hai riuscito a tenere però i resettoni non ci sono più sto pensando anche i resettoni di location giusto così per essere un po' alternativi che ti aspetti che giochi il Rannister io no però però tutto al più gli rimane giù il tavolo dipinto ci vorrebbe un nightmare no nemmeno perché il nightmare sul tavolo dipinto ragazzi non funziona no non funziona sul tavolo dipinto no funziona su Red Keep ricordiamolo ma non è un reale problema a questo punto della partita direi di no comunque almeno questo turno non ha pescato il Red Keep perché la potere ha persa magra consolazione però non gli ha fatto intrigo Luca quindi niente amici come prima sì 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 vabbè nuova trama qui vediamo se scende qualcos'altro di cattivo vediamo un po' che già anche tipo una confisca su quel mirk per andrei potrebbe già essere buona per dire ma anche una melisandre truffaldina gli inginocchi qualcuno non so se la gioca ora ti dico è anche in uno per miseria no per tanto se non metti il pacchetto go go cosa ti serve una melisandre che inginocchia un qualsiasi personaggio questo altro metti i personaggi con fama a questo punto cioè per un punto in più metto un fastned che a questo punto mi fa la partita ecco ok nel senso però tu non vuoi fare molto non vuoi fare molto con questo mazzo ho capito vabbè vabbè dai trama ragazzi eh buon Luca è messo un po' inguagliato sì non penso che abbia soluzioni nelle trame Luca la prima neve è già andata non lo so cioè anche Andrei non mi aspetto niente particolare se non fosse una confisca sul Mirk su un'altra trama di economia qualsiasi o veramente allora se ce l'ha un Winter Festival però vabbè penso che non ce l'abbia a questo punto altrimenti veramente una confisca tipo abbastanza standard no vabbè toglie comunque lo ster si toglie il mix su uno dei sui ster non vediamo dai nemmeno una cosa sporca in fin di vista allora ecco questo è un problemone però sì adesso vediamo Andrei chi decide di fare andare penso abbia deciso di andare lui perché potrebbe essere il risveglio dalle targo adesso gli basta vincere la potere se vince la potere chiude attenzione va bene anche in difesa quella sì certo però diciamo che lo farà in attacco adesso deve solo riuscire a vincere la potere cosa che non è così difficile con due ster in potere dei manzi discreti maestro neutrale aggiunge un'altra forza due in potere sostanzialmente e forse passa però vediamo perché con tutte quelle carte in mano eh beh ma magari sono eventi o altre cose perdiamo sì allora ah vuole forse rubare l'Ibron a tutti i costi comunque sta facendo anche pensare a Bron ci sta ci sta anche questo discorso vediamo dai vediamo vediamo Luca cosa ci gioca Luca però il problema è che in potere ah beh ha un altro eh beh ecco questo è interessante gli toglie comunque un altro ster anche la militare ma è indifferente gli toglie lo ster e mette giù boh uno scontino penso Targaryen che comunque aggiunge più adesso fai i conti sulla potere perché se no è finita lo sa anche lui allora vediamo un attimo sono due quattro sei sei e tre nove nove dieci undici eh undici e sei diciassette e sette no e sei diciassette sette eh venti undici e sette ventiquattro undici e sette ventiquattro undici più sette diciotto bravo diciotto diciotto e tre ventuno e ok dovrebbe essere a ventuno in potere con uno ster e dall'altra parte veniamo un attimo diciamo che gli ster da quello più grosso che è comunque Tywin sì rimane nove ah vabbè ok vabbè dai e cos'è sceso qua un'altra City Watch la terza perché uno l'ha scartata sì sì e Nightmare su Bron Nightmare su Bron ah ok in sfide ah giusto ok basta si gli ha fatto vedere non so cosa per togliere la potere anche lì ma vinceva la potere ovviamente è finita perché spieghiamo non ha fatto la sfida ma vinceva la potere chiamava due due punti ovviamente grazie alla trama e quindi ok finisce così ragazzi una partita interessante forse è andata anche un po' più per le lunghe di quanto ci hanno pensato molto diciamo però secondo me è interessante vedere due mazzi comunque un po' diversi forse Rannister più diciamo consueto se vogliamo anche se abbiamo visto bene bene che eventi giocava cioè non abbiamo capito se giocava comunque eventi di che raggio diretto non ne abbiamo visto nessuno eccetera eccetera abbiamo visto semplicemente personaggi classici e la parte diciamo Targaryen per riazzare si è intravista e invece molto più originale il mazzo di Andrei che è una diretta conseguenza del meta che si è venuto a creare a mio avviso sì penso di sì bisognerebbe capire come se la gioca contro non so i Nightwatch eccetera eccetera con i mazzi che comunque chiamano anche loro tanti punti è l'aspetto che con Sansa chiami forse di più tra tavolo dipinto Domino e la Domino si ridimenta un po' una sfida sì però calcola che il punto che vai a rubare l'avversario è migliore del punto di barriera che ti vai ad aggiungere va bene ok ragazzi noi chiudiamo qua ci vediamo per ogni prossimo video con Crave arriveranno anche altre finali sul championship non tutte tutte perché qualcuno non è stata firmata quindi disertato ma ne vedete dei grati ciao ciao a tutti ragazzi